Buonasera da Andrea Cartotto. È possibile creare un quiz o un'attività di verifica con un account Google personale, dunque un account chiocciolagmail.com, senza disporre dell'ambiente di apprendimento Google Suite? La risposta naturalmente è sì. E per fare questo vediamo come procedere. Il requisito è dunque avere un account Google personale. Andiamo a cliccare, in questo caso dal mio browser Google Chrome in alto a destra, sull'icona con piccoli quadratini App Google per accedere al menu dei servizi di Google. Un clic su Google Drive che, ricordiamo, è il servizio cloud di Google, cioè l'archivio online che ci mette a disposizione, essendo un account personale, 15 gigabyte di spazio che, attenzione, sono condivisi tra tutti i servizi Google. In parole molto povere, vengono erosi anche da allegati pesanti di Gmail, ad esempio. A questo punto, un clic in alto a sinistra su Nuovo. Poi scorriamo con il puntatore su Altro ed effettuiamo un clic tasto sinistro su Moduli Google. Il colore per Google dei moduli è il viola, come ad esempio per Google Documenti il colore identificativo è il blu. Componiamo il nostro modulo e vediamo, ad esempio, in questo caso prendo una materia letteraria, prendo italiano, e comporremo un quiz di una sola domanda con risposta multipla autovalutato. E vediamo come somministrarlo agli allievi. Allora, intanto, clicchiamo su Modulo senza titolo e andiamo a inserire il titolo della nostra attività. Verifica sulla Divina Commedia. La descrizione Modulo rappresenta la consegna. Quindi cerchiamo, quanto più possibile, di indicare ai nostri compilatori, e dunque ai nostri allievi, le condizioni ideali per compilare il nostro modulo. Ad esempio, benvenuto in questa verifica, nella quale parleremo del mirabile lavoro del VATE ante palichieri. Quindi, attenzione, due punti. Una sola è la risposta corretta tra quelle proposte, ed ogni risposta è obbligatoria per poter accedere alla domanda successiva. Ora, tempo a disposizione, 60 minuti. Punto. Immaginiamo lo scenario, naturalmente, del modulo Google anche nel contesto classe, dove io posso portare gli allievi in un laboratorio e somministrare l'attività di verifica simultanea. Ora, in un momento di lezione a distanza o di lezione digitale, ecco che avremo comunque il modo di proporre un'attività di verifica ai nostri allievi. attenzione bene, se io faccio un clic in alto a sinistra, come potete vedere, il titolo viene immediatamente replicato. Questo perché? Perché se ora mancasse la corrente elettrica, naturalmente il nostro modulo, essendo in cloud, risulta salvato dentro Google Drive con il nome da noi prescelto. Tutte le modifiche sono già salvate in Drive. Adesso, attenzione, clic sulla tavolozza e la tavolozza serve per modificare l'aspetto estetico del nostro modulo. Il tema, come potete vedere, è lo sfondo e gli elementi grafici centrali. L'intestazione, invece, è molto interessante perché laddove non si abbia una intestazione particolare, è allora possibile cliccare una delle intestazioni offerte da Google. Parliamo di letteratura, ed ecco che io vado a cliccare l'intestazione con il piegolibri. Abbiamo intestazioni statiche ed animate divise per categoria. Questo strumento, per farvi capire quanto il digitale sia liquido, è uno strumento sia applicato alla didattica che applicato, ad esempio, al marketing. E al marketing per che cosa? Per l'analisi dei fabbisogni, un questionario, diciamo, di customer care, cioè di soddisfazione di un ipotetico cliente. Vado a cliccare su inserisci. Ed ecco, come possiamo osservare, il nostro sfondo, dunque la nostra intestazione modificata. Attenzione, se io vado a annullare con X il caricamento dell'immagine, vado a cliccare su scegli immagine e poi su carica, io posso importare in formato immagine, ad esempio, la carta intestata del mio istituto. Una immagine personale. Consideriamolo per dare una veste ancora più precisa e puntuale alle nostre attività. Clicco su inserisci. Andiamo a variare il nostro tema. Possiamo, in questo caso vedete che il tema sia adeguato all'intestazione, ma io posso anche cliccare sul più e andare a inserire un colore personalizzato. Prendiamo un azzurro scuro. Aggiungi. Ed ecco, insomma, il tema. D'accordo? Direi di non soffermarci ulteriormente sul colore di sfondo. Ecco, questo lo vedo un aspetto facoltativo. Chiudiamo con X. A questo punto, attenzione bene. Clic sull'ingranaggio. Dunque, impostazioni. Suggerisco, per avere una univocità della risposta, e anche per garantire al meglio la compilazione, di effettuare un clic su raccogli indirizzi email, per inserire in automatico il campo in cui raccolgo l'indirizzo email del compilatore. Inoltre, di limitare la compilazione a una sola risposta. A questo punto, anche se noi potremo naturalmente accedere ai report, quindi all'analisi dei dati dei compilatori e degli allievi, saremo sicuri che non possano effettuarlo in maniera sequenziale. Ancora più importante, andiamo ad effettuare un clic su quiz e a cliccare sull'interruttore perché è il quiz che ci consente di decidere, ad esempio, il punteggio di ciascuna domanda. Potremmo differenziare per grado di complessità il punteggio o per effettuare una valutazione ponderata, appunto. Quindi assegnando nella nostra rubrica di valutazione dieci domande, un punteggio per ciascuna domanda, perfetto, totale lo ottengo dieci, ma potrei anche decidere di applicare un altro tipo di rubrica valutativa. A questo punto, clic su salva. Come possiamo osservare, ecco che c'è anche il campo indirizzo email. Se io voglio raccogliere il nome e il cognome dell'alunno e qua vediamo l'intelligenza artificiale di Google, domanda senza titolo, clic, attenzione bene, nome. L'intelligenza artificiale fa sì che la risposta multipla divenga risposta breve. Attenzione, va inserito il nome, quindi clic sull'interruttore obbligatorio. Comparirà accanto ad ogni domanda e relativa risposta l'asterisco rosso che state vedendo qui in alto. Quindi, nome, risposta breve. Perfetto, non ha chiave di risposta. Clic sul più. Pognome. L'intelligenza artificiale tramuta l'opzione in risposta breve. Obbligatorio. Suggerisco di utilizzare sempre campi separati perché volendo poi analizzare i risultati delle nostre risposte, questo ci renderà la vita indubbiamente più semplice. A questo punto, un clic sul più perché andiamo ad arricchire il nostro quiz. E allora vado a porre il quesito. Attenzione, io potrei tranquillamente cliccando sul pulsante che vediamo con le colline, simbolo convenzionale per le immagini, clic, applicare con numerosi sistemi una immagine a corredo della mia domanda. Supponiamo di cliccare su Google ricerca immagini e a questo punto digitare, ad esempio, Divina Commedia. Clic. Un clic su una immagine che possa fare al caso nostro, clic su Inserisci. Ed ho arricchito di un'immagine la mia domanda. D'accordo? Dunque, formuliamola questa domanda. Allora andiamo a digitarla. La Divina Commedia si compone di due punti. Scelta multipla è corretto. Opzione 1 3 Canti Opzione 2 3 Cantiche Opzione 3 3 Liriche A questo punto, però, dopo aver reso obbligatoria la nostra risposta, andiamo a definire il punteggio. Clic su Chiave di risposta. La Divina Commedia si compone di quanti punti assegna. Poniamo un punto. Qual è la risposta corretta? Tre cantiche la vediamo validata. Attenzione, come potete notare, io ho inserito la consegna e ho indicato che una sola è la risposta corretta. Nella realtà dei fatti posso anche, mutando poi la consegna, stabilire che vi siano due risposte corrette, quindi più d'una. Se aggiungo un feedback sulla risposta, io preciso e definisco ancora più al mio alunno cosa deve vedere se ha inserito una risposta errata e cosa dovrà vedere se inserisce una risposta corretta. In questo caso clicco su Annulla e il feedback per un momento lo trascuro. Clicco su Fine. Per aggiungere ulteriori quesiti al mio lavoro sarebbe, ed è sufficiente, cliccare ancora una volta sul pulsante Più. In questa maniera io vado in elenco ad arricchire il mio quiz, la mia attività di verifica, di più blocchi. Teniamo conto che se io vado, perché per un errore ho i blocchi non nel corretto ordine sui pallini e tengo premuto il tasto sinistro, vedete che il puntatore assume la forma consueta dell'icona di spostamento, posso trascinare i blocchi riordinando l'ordine delle domande. Effettuando un breve commento ancora, vediamo che abbiamo la possibilità di aggiungere un video di YouTube, ad esempio un video per arricchire multimedialmente il nostro quiz. L'esempio classico, guarda, ascolta e rispondi. Ma per ora il mio intento è di mostrare proprio come somministrare velocemente un quiz composto da domanda, risposte, per poi inviarlo agli alunni. Quindi, vedremo eventualmente in altra videoguida come procedere ad implementare ancora queste funzioni. Questa è la modalità più semplice. Attenzione bene. Dico a chi avesse competenze digitali già medio elevate o volesse formulare e somministrare un quiz più ricco che l'aggiunta della sezione permette di avere sezione 1, ad esempio, comprensione del testo. Un tot di domande. Aggiungo una sezione. Sezione 2, comprensione, eccetera, eccetera, e vado ad arricchire il mio lavoro. Ecco, c'è una certa libertà nella formulazione del quiz, ma in questa videoguida avrei potuto, ad esempio, anche definire come sezione l'inserimento del nome e del cognome. D'accordo? Però, ecco, questo è l'assetto più semplice, alla portata veramente di tutti. Ho terminato. Nel momento in cui ho terminato, io vado a cliccare su invia. E che cosa accade? Accade che, intanto, che cliccando su aggiungi collaboratori, io, docente, posso inserire come collaboratore e revisore del modulo con i miei stessi poteri un collega del team o un membro della mia classe o un collega della disciplina del dipartimento. Se io vado ad inviare via email questo quiz ai miei allievi, posso anche fare, per semplicità, una cosa di questo tipo. Aver cura di digitare andrea.cartotto.chioccioladmail.com inserire i destinatari. Posso ancora modificare, se lo voglio, l'oggetto e il messaggio. Clicco su invia ed arriva via mail la possibilità di compilare. Oppure ancora, e concludiamo con questa funzione, questa mia videoguida, se io clicco sull'icona catena, io posso trasferire il link di questa verifica. Attenti bene, guardiamo un modo per trasferirlo veramente ad hoc, che sia un link facile e parlante. Un clic su abbrevia URL. È già breve, è già trasferibile, però indubbiamente è complesso. È alfanumerico questo indirizzo, lo possiamo vedere. c'è forms.gle, slash, ug, lo si può dettare, ma non è ancora perfetto. E allora, usiamo una soluzione integrativa che accorci ulteriormente, personalizzi il nostro link. Io clicco su copia, poi vado a chiudere con X. Il lavoro sul modulo Google è terminato. A questo punto apro una nuova scheda del mio browser e vado a ricercare una splendida soluzione, oggetto di altro mio videocorso sempre su questo canale YouTube Trainer Andrea, Bitly, bitly.com. Magnifica soluzione per accorciare e personalizzare i links. Guardate come in un attimo quel links apparentemente complesso diventa verifica sulla Divina Commedia. Io vado a cliccare login, la prima volta dovrete cliccare su sign up, dunque occorrerà registrarsi, non arriva sporcizia, non arrivano mail indesiderate da Bitly. Vado a cliccare su Google, lui mi chiederà di accedere con il mio account Gmail ed ecco che mi troverò dentro Bitly. Questa parte è indicata anche in ulteriore mio videocorso. Andiamo dunque a definire meglio il nostro obiettivo. Un clic sul pulsante Create. Nel paste long URL, in questo riquadro, cosa vado a fare? Chiudiamo con un X la pubblicità che vediamo sotto e ancora con un X. Clicchiamo. Se prima ho fatto copia, qui andrò a fare clic, tasto destro, un clic su incolla. Ecco qui che ho a disposizione la personalizzazione del link bit.ly, è anche facile da ricordare, slash, ma posso rendere parlante il mio link. E vi vado ad indicare verifica, anzi scusate, verifica Divina Commedia. Potrei inserire il nome della classe, potrei inserire il nome dell'istituto, però pensate alla comodità di trasferire agli alunni, potrei quasi farlo oralmente. Si guarda, vai su bit.ly, slash, verifica Divina Commedia. Il titolo assegnamolo, per cui verifica Divina Commedia, simuliamo IC Carducci. Vado a cliccare su Save ed ecco che ho ottenuto un comodissimo URL che diventerà link, semplice, parlante e in più. Attenti, chiaramente prendiamola con le molle, ma se io trasferisco questo URL, come potete osservare sotto, quelle che si chiamano in gergo le metriche, io posso anche verificare i clic totali su quel dato link. Attenzione, è un indicatore sommario di corretta esecuzione della mia consegna, cioè di clic sul link. D'accordo, perché sono i clic totali, però certo è che, abituando gli allievi all'utilizzo di questo strumento digitale formidabile, io ho la possibilità di, tranquillamente, avere un quiz da usare con valutazione oggettiva, come semplice attività di verifica, pardon, di rinforzo, di ripasso, e allora non lo tramuto in quiz, veramente con grande comodità. Lavoro del docente è terminato. Clicco su X per chiudere la scheda di Bitly. Clicco su X ancora per chiudere la scheda del modulo Google. Attenti, quando i compilatori, cioè gli allievi, avranno svolto il loro compito, io troverò nel mio elenco di drive, vi faccio un esempio, prendo un file qualsiasi, troverò un file, andiamo un pochettino, lo vado a scorrere all'interno dei miei documenti, ma sì, prendiamo questo. Io avrò un file, tanto per intenderci, di colore verde, quindi in realtà io avrò un file foglio elettronico, in automatico presente qui su drive, con lo stesso nome del modulo, e aprendolo con un doppio clic, potrò tranquillamente andare a vedere, già divisi per celle, quindi righe e colonne, i nomi dei compilatori, in che orario hanno compilato, e il punteggio che ottengono, se ho avuto cura di rendere il mio lavoro un quiz, e assegnare il corretto punteggio. Videoguida un pochino più lunga del solito, naturalmente sempre a disposizione per feedback, per richieste, per commenti. Ancora un saluto da Andrea Cartotto, e a tutti l'augurio di buon lavoro con gli strumenti digitali.